Sta a noi, che siamo gli studi e che facciamo la parte creativa, capire dove è possibile entrare e in che modo. Interessante la questione che hai sollevato, ti faccio anche un po' di domandine tecniche, qui si parla anche un po' di business, eccetera, sul discorso della sovrabbondanza. Un tema che ricorre spesso, faccio questi parallelismi anche per l'audience che ci sta seguendo in questo momento, nel nostro settore il gioco da tavola è proprio la sovrapproduzione. Molti giocatori, ma anche molte aziende, soprattutto i negozi fisici, si lamentano del fatto che in un anno escono circa dai 3 ai 4 mila board game, quindi insomma una quantità di giochi, secondo me quest'anno li scoppiamo alla grande questi numeri, però tanti, che non sono mai tanti quanti videogiochi, perché se sommiamo dal tripla, al doppia, alla singola A, al super inghi, fatto in casa da uno, sul cellulare, e sostanzialmente ne abbiamo, boh, mille mila, come diceva l'ingegner cane. Come la vivete voi da studio di produzione questa cosa? Cioè, giustamente, è un problema perché essendoci una sovrabbondanza, devi farti largo di contro, però la sovrabbondanza è anche un sintomo del fatto che l'utenza è esplosa. Oggi videogioca chiunque, videogioca la mamma, il babbo, il bambino, i nuovi nonni sono persone che hanno già conosciuto il computer nella loro vita, mio nonno giocava a carte e al circolino, mio padre, che ha quasi 70 anni, è un videogiocatore, cioè gioca a Diablo 3, per dirti. Fantastico, fantastico. E' un'altra generazione. E giocava sull'M24 a Bubble Bubble, i primi giochi con grafica EGA. Quindi si sta diventando, al pari della televisione, al pari del cinema, una forma di intrattenimento ormai sdoganata. In ogni casa c'è una console o uno strumento per giocare, se non altro c'è lo smartphone, che insomma qualche anno fa con molto meno potenza di calcolo si mandavano missili sulla Luna, quindi... Verissimo questo. Come si bilancia la sovrapproduzione, la nicchia e la voglia di uno studio di emergere? Cioè cosa si può fare per vivere in un contesto che ormai è assodato, sarà sempre più iperproduttivo? Questo è verissimo. Io ti dico, c'è una cosa che dico spesso quando magari ci troviamo tra colleghi, facciamo lo stesso lavoro, e esce fuori questo discorso spesso. Ok, gli store sono pieni di roba. E io poi mi guardo e dico, sì ma siamo noi a riempirli di roba, nel senso che se c'è questa sovrabbondanza è perché a noi è la possibilità di farlo, altrimenti non ci sarebbe. Quindi io personalmente non la vedo in maniera così negativa o preoccupante, nel senso sta a noi che siamo gli studi e che facciamo la parte creativa, capire dove è possibile entrare e in che modo. È vero che i giochi sono tantissimi, c'è una sovrabbondanza devastante di prodotti, escono un sacco di giochi al giorno, ed è vero che il tempo dei giocatori è sempre meno. O meglio, lo era pre-pandemia. La pandemia ha un po' cambiato gli equilibri e questo secondo me è un equilibrio che tenderà a restare su alcune fasce di persone, magari non tantissimo, ma tenderà a restare. Cioè almeno quello che penso io, quello che noi come studio cerchiamo di fare, è trovare delle nicchie e ovviamente trovare un nostro pubblico, un nostro target, un nostro giocatore con cui parlare. Perché alla fine è un po' lì, secondo me, il nocciolo della questione. Nel momento in cui riesci a costruirti una community, una nicchia, un piccolo pubblico e il tuo gioco ha un investimento dietro, commisurato, a quanto è grande il tuo pubblico, beh allora funziona. Cioè si può fare. Di nuovo tornando a Frankenstein. Mi piace tantissimo questa risposta perché con una risposta super polite hai descritto quello che si dovrebbe fare in ogni azienda sana nel 2021 per progettare la costruzione, la creazione di un contenuto e hai blastato CD Projekt. No, no, vabbè, non c'è nessun senso. Mi dico benissimo perché io sono in questo momento molto hater con CD Projekt, quindi quando hai detto un investimento commisurato alla dimensione della comedia del progetto per me hai vinto tutto. Perché questa è come la viviamo noi, nel senso che poi siamo una realtà piccola e non avendo giganteschi capitali alle spalle dobbiamo stare attenti in quello che facciamo. Non dico che sia semplice nel senso, non dico che si faccia così con uno schiacco di vita, proprio per niente, ecco. È forse una delle operazioni più difficili da fare, però si può fare, noi con il nostro nuovo gioco in uscita lo stiamo facendo. Darà dei risultati, punto di domanda, lo speriamo, nel senso che abbiamo lavorato tre anni per riuscire ad arrivare a questo. Però è un po' quello che noi come studio vediamo come unico modo e unico pensiero per poter portare avanti la nostra visione e un business come il nostro, quindi piccolino, calmierato, misurato, che può crescere, sì, ma non mi aspetto di diventare 200 persone domani, perché siamo anche abbastanza concreti e con i piedi piantati a terra, ecco. Sì, anche quello. Sì, anche quello.